Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo diciottesimo episodio della Soul Link a Pokémon Rubino e Zaffiro qui con noi C'è... C'è il Rochert, eccolo qua, sempre presente nella Soul Link, che incredibile Mamma mia, con che intro, ragazzi, che intro cattiva è, si vede che oggi ce la voglia registrare, oggi questo episodio andrà bene, lo decido qua Bah, speriamo, io non vorrei più fare, ma speriamo bene Nel caso apparirà tipo inizio video la scritta, hai presente quella in bianco e nero, col formato tipo lucida, tipo andrà tutto bene, serie finita Le parole famose Comunque, Luke, che cosa facciamo in questo episodio dai connotati abbastanza particolari? E ragazzi, dopo che ci siamo accorti che il trick del centro spaziale non esiste in Rubino e Zaffiro, quindi grandissimi esperti di Pokémon noi, grandi Andiamo, ragazzi, verso l'antropissale e poi, in torri a sessere tempo, verso Cineide anche E faremo anche molte catture E se riusciremo, faremo anche la cosa del leggendario, la cast del leggendario Attenzione, la cast Incredibile Termini incredibili che io non sapevo neanche Vabbè, allora, Luke, io sto proseguendo verso il sud per andare subito sul percorso 127 e fare la cattura, per cui oggi sono carico, ho trovato il Pokémon Comunque, Giorno, abbiamo detto, abbiamo messo una coppa, ragazzi, come schiave MN, perché sennò era impossibile trovarlo Sì, abbiamo, tu chiacchai, Luke, e io Caskoff, ossia il primo Omastar della serie Grande, primo Oss, non si dimentica, ragazzi Ok, Giorno Io ho trovato Azuril Che si è suicidato Ok, quindi posso proseguire, grandissimo Proseguo, ragazzi, sempre dritto 130 Martingar Fantastico Ok, 128, Giorno, andiamo su 128 Aspetta, 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 io mi sto, tipo, andando a prendere un po' di strumenti, perché qua ho trovato una Uh, la roccia di re, è utile Eh, tipo, uh, 128 Wow, sono emozionato, ragazzi Eh, tu fai la cattura, ragazzi, io intanto, se ecco, qualche allenatore sul post Tutto vi ricordiamo, ragazzi, mi piace, che non l'avevo ricordato E la campanella, ovviamente Ho trovato Sablai 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 La storia del mio canale, ragazzi, Sablai, perché Il Pokémon da cui tutto è iniziato, voi non lo sapete, ma il mio canale nacque Grazie a una Creepypasta su Sablai Quindi, cioè, magari lo sapete, invece Eh, questa, questa, dovete assolutamente recuperare quella L'ho catturato, madonna, grandi raga Cioè, ragazzi, perché io sto facendo, io mi chiedo sempre perché faccio le Soul Link con il Roger Cioè, troppo, è di un livello superiore È di un livello, ragazzi Ma dove cazzo è sto percorso 128, Cristo e Gionici? È divenire sempre giù, ragazzi Perché il 128 è veramente un bozzo Sì, ma è a casa di Dio, ma zì, ma non ci arrivo Sì È tipo il percorso per andare da Recaio Non finisce mai sto percorso Il dragone, quello che facessi Se fosse fatto Goku, tipo, dopo essere morto contro Radish, me lo ricordo Esatto, esatto Noma mia, sta cultura anime, ragazzi Aia, frana Eh, appena, appena questo signor Ninjask mi lascia, ehm, vivere Sì, devo, devo verificare Sì, ti lascia vivere Sì Cos'è che dovevi verificare, Roger, tu e raga Quando devi verificare qualcosa il Duke vuol dire che Ho verificato, ho verificato Vai tra, vai tra Mamma mia, che uomo Ok Ho fatto il gioco, quindi Comincio ad andare un po' avanti Sì, 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 vai verso gli altri percorso Perché io sono rimasto bloccato con i ragnetti chiamati are Celebi, grazie Celebi, vabbè, vabbè Poca, poca roba, scarso No, 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 ma veramente Cioè, nel senso, raga Gli allenatori quelli scarsi Aspettate che mi siedo decentemente Perché io ti posto Oh, 128 No, tu non mi sfiderai Lezzo, maledetto Dai, troviamo sto Pokémon No, no, c'è, dopo lo scorso episodio Chi è che ta... Chi è? No, entei Charmander Ah, vabbè, un altro stato, ragazzi Dopo aver trovato Trico Charmander Ok, allora, devo giocarmela con molta calma Eh, vaffanculo, sei già svegliato, però Questo cancro Casfor, ma vaffanculo Allora Vediamo se riesco con una Ultra Ball Dai, gioco L'ho preso Grande Dopo Trico Sai che a Trico non ho dato un soprannome, ora che ci penso Non sa così da quanto Trico d'ignoranza Non gli ho dato un soprannome mai Eh, sì, come lo chiamo Charmander? Rimediamo Oh mio Dio Cos'hai trovato? Oh mio Sono tutti tipo spettro in sto cavolo Ma io come lo chiamo sto Charmander? Luke Eh Lo chiami... come puoi chiamarlo? Eh, Charizard È un drago Urla Fiamme Ehm Ehm Qualcuno puoi chiamarlo, eh Perché Se sono stato questo Lo chiamo Lo chiamo Lo chiamo Pepper Lo chiamo Peperoncino Minchè per un momento Ho temuto il tono di puppe, ragazzi Perché? Non so Quando hai detto Peppi Luke Io sono tipo Dove si potrebbe far sub, ragazzi Quindi volendo Eh Mi sono fatto a curare un secondo gioco Perché mi hanno fatto tipo Il culo Perché ovviamente ragazzi Rochette non è furbo E non fa come Creepy Prendendo Le pozioni No, ma ce l'ho anche le pozioni Però mi hanno scottato tre volte Eh, lol, ok, perfetto Ho fatto una figura del merda epocale Ok Sono sott'acqua, Giorgio Ah, ma tanto Ma siamo anche a fare la cattura sott'acqua È considerata proprio zona Si chiama sott'acqua? Sì, sott'acqua C'è proprio il cartello sott'acqua Proprio violente No, aspetta Controlla un attimo Che io non sono sicuro, ragazzi Eh, però Per Rochette mi fa fare le cose stronze Poi la colpa è mia Eh, ma c'è un problema E non c'è l'erba Quindi niente cattura sott'acqua Niente, ragazzi Ragazzi, purtroppo Agliucco oggi non è andato l'erba Eh, purtroppo è un po' nervoso Eh, ma la cattura sul 129 La facciamo quando? La facciamo poi La facciamo vedere Vuoi farla adesso? Boh, sì, direi Va fanculo Allenatrice di merda Pensavo di riuscire a evitarle Invece mi ha preso in pieno Beh, anche a me Guarda E mi sa che è la stessa È la stessa È la stessa È quella appena sotto il Sì, e mi mando puoi dare Quint'altro No, specchio velo Figliolo Cioè, non va bene Che schifo Ma cos'è sta roba? Oh mio Dio Cosa hai trovato, Luke? Eh, no Gli ho fatto tipo Gli ho tolto niente Tipo 10 livelli sopra Il mio carto Che è una mezza Pippa colossale Ok, sono sul 129 Io la provo La provo La provo La provo Vieni fuori però Oh, cancro Non esce Ok? Chi è? Pikachu Io chiuderei qua tu Ragazzi Pikachu si commenta Non la so, direi Pikachu Sto trovando tutti gli starter Perché Pikachu Tecnicamente è starter Ma vuoi crepare? Sono su Dio Mamma mia Preso Pikachu Eh, questo qua raga Non posso non chiamarlo Top 5 Si ha Madonna raga Cioè Questa qua è Cioè Dove stavere capito Il riferimento Perché È a sua bocca Di tutti Top 5 Top 5 ragazzi Pocca con più forti di Ash Veramente Io Io non Io non dimentico Veramente Come sei messo te Dio clip Eh, sono messo male Adesso sono su 129 Faccio la cattura Io adesso E sono un pokemon buono Stop Vai, chi è? Eh, aspetta 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 Figa Luke Se siamo dei coglioni Delle volte Sì, vabbè Ma raga È bene È questo Il bello della Sonic Mamma mia Comunque adesso ragazzi Io vado Cioè appena ho battuto Questo strumish Che mi sta provocando problemi Cioè cose bellissime E non ci sta neanche Giù Cioè veramente Vuole risorgere Proprio Di cattiveria Io mi fiondo ragazzi Giù nell'antro abissale Che dovrebbe essere qua, no? Ma tu l'hai catturato Giù, scusa Già alla fine Pica, ce l'ho preso Sì Ah, già Ah, è già Questa 129 Giusto Allora, aspetta A pure pedinombra Cioè veramente Una cosa assurda Bello pedinombra Mi piace Eeeh Una roba Cazzo perché mi ha urlato Nell'orecchio questo Allora aspettate che io Provo a insegnare un AMT Al mio Flygon ragazzi Che sta facendo cagare Al cazzo Cioè parliamo Eh anche Eh, non Ti rendi conto che un uomo A tenere non ci sta Nelle ultra ball Guarda, non ci sta Wow Non ci sta Luke, calma Oh, l'ho catturato Eeeh Grazie No, no, no Che non voglio tornare su Ok, io sono tipo Dove c'è il sottomarino Eh, giù Volevo chiamarlo Jesus Ma mi sarei un po' Blastface Vabbè, magari potevi chiamare Jesus un Growlite Quello sì che sarebbe stato Blastface Oh mio Gio Io sono un altro Abyssale Luke Però ti aspetto ragazzi Perché voglio che Rochette faccia la cattura Magari anzi Vado avanti con il repellente Così mi tiro un pochino avanti Però non catturiamo i Pokémon Perché il Rochette Ha bisogno del suo spazio Ragazzi Esatto Ragazzi lo spazio è proprio l'angolo del Rochette L'angolo del Rochette Nuova rubrica che Insomma Spero che guardate in molti Mi raccomando Allora Io ho tipo Giza Che ha dei problemi di natura Non ha Non ha più pipì In eruzione Purtroppo E questo non è affatto bene Eh perché Poi dopo Sai che Non lo dico No, no Non lo dico Ok Sono nell'altra Bistola Anche Beh poi Quando non hai pipì Nell'erezione Ecco L'ha detto L'ha detto No vabbè Grande gioco Stima totale Oh l'hai fatto Io ho fatto la cattura No, no, no Io ho aspettato Ho aspettato il Rochette Ragazzi perché se non merita Visto che è un grande uomo La faccio io Bello false lacrime di brillo Oddio Ho trovato mito Anche nell'altro Abissale Allora Il soprannome ce l'hai Addio infanzia Il soprannome ce l'hai Lo chiami Childhood Infanzia Esatto Chiamo sicuramente infanzia Ragazzi perché ovviamente Il mito di infanzia Sai che ho come la netta sensazione Di star sbagliando strade In una maniera epocale Ma dipende dove sei Hai già fatto il flick della Insomma Spaccaroccia Forza Sì Io non so dove sto Non so veramente dove sto andando Eh io non so Sono catturando mita Quindi ti Ti sapò dire fa pochissimo Gio Mi sa che Devo essermi tipo Perso In un Non so Madonna ragazzi Cioè non ci sta proprio Sta Sta mucca Madonna Ok Ho catturato Mamma mia Mita Del capo Che ho un bovino Ok Dovrei essere tipo Io non so Non so veramente Se ho preso la strada giusta Cosa c'è qua Spero che Childhood Si scriva così E non mi ricordo come Scrive Childhood Porca miseria Adesso non riesco a ragionarci neanche io Perché Ok forse Io Qua c'è un trick C'è un trick stranissimo Con i sassolini Che non so come fare Allora Si è abbastanza È abbastanza complesso Purtroppo Allora vediamo un attimo Di Se non te lo ricordi Di qua Ok Adesso ti aggiungo Già me lo ti faccio sapere Insomma Mi raccomando Ragazzi anche voi Mi ha supporto massimo Ok 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 ho trovato Ragazzi ho trovato Una recluta del team magma Vuol dire che in teoria Do riesce Salve tutti Qui Benzornati nella Soulink Crazy Raga cosa sta facendo Questo Prende e fa l'intra In mezzo In mezzo al video Dal nulla Oh ma andiamo Gizza raga Che ha dei problemi Perché veramente Non ha mosse Purtroppo Il nostro amico qua Meditazione No devi morire Che tipo era Ok vai vai Ma chi Eh ho trovato un Bynet Via Ce l'hai in squadra Come fai a non sapere il tipo Joe è morto Hai morto da 5 episodi Bynet Bye bye Proprio via Penso di aver Sbagliato Penso di esservi perso qualcosa In questa Oddio Cosa è questa roba No Joe Era morto insieme al tuo Come si chiama Come si chiamava Non mi ricordo più come si chiamava Il tuo Kingler Dici Si 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 Era morto insieme al tuo Kingler E erano morti da Da matti insieme E' vero Come ha fatto a morire Patti Eh I trick Quelli belli Allora Vediamo se Comunque Ok perfetto L'ho risolto sto trick Ottimo Ma devi andare a destra o a sinistra Però nella porta Oh io sono arrivato Eh non lo so Luke Io ho preso le cose a caso Io sono arrivato al leggendario Muz Qua c'è il coso con le correnti marine Oddio raga MT42 che Contiene bacio di Non lo so No aspetta ma Il trick Il trick No Luke Ti posso Ti posso Che succede Ti sento Ti sento agitato Sono andato praticamente A controllare le MT Sulla parte delle banche Tipo MT42 Bacca a buola No MT 250 di potenza Oh Luke Io penso di essere Proprio da Grodon Io sono da ADA Sono da ADA Che c'è uno Zardo Sì Gio Sei praticamente lì tu A sto punto Mi sa che sta per partire La battaglia con Max Eh Aspetta mio mio Dio E ormai sto parlando con Max E' partita Maxi From Teak Magma Per poter No No Perché raga Perché Sgranocchio Vai giù Vai giù Vai giù Ok memento Si è suicidato Wow Si è suicidato di cattiveria Sì 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 Proprio Sì sì Ha preso e via Morto Ma aia Certo che Io devo dire una cosa La game flick Quanti Quanti fasi Ho messo in questo Antrovisale Tantini Tantini No no Con st'occhio Calma Gio Calma Non dobbiamo perdere più Pokémon Ok ci sono anch'io Altro bis sole Fantastica Proton in teoria Doresti essere psico Quindi In teoria Oh ma ci fu No fuoco bomba Con la siccità Ok ha retto Ma ha bruciato Stronzo muori Eh non gli ho fatto nulla Ok l'ho bruciato Chi di bruciatura perisce Di bruciatura ferisce Non era proprio così La frase ma fa niente Vabbè Cazzo cosa ha la superpozione Sto cancro Antiparalisi Merda Allora Tra l'altro raga Max con siccità Che sta cercando di prendere Groudon è geniale Veramente Provocazione Ho trovato già Bella 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 C'è questo uomo C'è questo uomo qua Che sta continuando a fare Qua No Mattindoro Con siccità Stai scherzando No Non sta scherzando Certamente Dai Dai Ok No Mattindoro Guarda che sei cancro Proprio nel cervello Ragazzi la host Intanto è fantastica Io aggiungerei Guarda che roba Swimma Oddio Mi sta stollando come se non ci fosse un futuro Luke Eh ma Che poca non ti stiamo dando conto Che non mi Che Non fare Mattindoro Non fare Mattindoro Cosa ha fatto Aia Fendi foglia su cartoon Forse ce l'ho fatta Luke No Non ce l'hai fatta Dai Joe Vogliamo la tua vittoria Assolutamente Ok Mi sono cagato il cazzo Adesso io gli mando Cursed Fammi sottomissione Cursed rage Minchia ti sparo Una botta di quelle Che ci rimani secco Fino alla morte Una botta in testa Muori Oh Ce l'ho fatta Ma se che mi stassero Non anche a me In questo momento Mi sto Con l'allergia ragazzi Con l'allergia Tanto scena in cui Grodon prende E tipo Vola Prende 100 Si vola E' presente Tipo i personaggi Di Dragon Ball Che prendano E vola Uguale Identico Esatto Torcico aveva Ok Arriva Arriva il timidro Che cerca di ribaltare Max Timidro Ok Si timidro Il timidro Si si no no Mi ha fatto ridere Cerca di ribaltare Mi ha fatto ridere Ok Ho vinto anche io Gioco contro Ivan Fantastico raga Fantastico Fantastico Io sono Sono fuori dall'antrobissale Ci sono loro Che adesso Stanno fuggendo a Ceneride Arriva Rocco Ma lui mi porta Diretto a Ceneride No devo arrivarci a Ceneride No deve arrivarci Non so come però Il problema è questo Così col teletrasport Quelli vedi insomma Perché Allora Prova a fare sub E cerco di arrivarci In qualche modo A Ceneride Tipo Si Dovrebbe essere Proste facile Arrivare a Ceneride In teoria Allora Teniamo un PS su No Minchia no PS su Posso anche lasciarglielo qua Se vogliono C'è nel senso Certo c'è Ci sono veramente C'è uno sconto Da gang criminali qua C'è Bastante raga C'è veramente Ci stanno avendo a Ceneride Non so veramente Dove andare Per arrivare a Ceneride C'è sto vagando Nel nulla Sì 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 Balzoni Ne fanno veramente Tanti qua Da me piove A te penso ci sia il sole A te immagino Sì esatto 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 Ok Questo qua penso sia l'antro Però c'è nel senso Forse ho sbagliato un pochino Sì infatti Sono tornato all'antro abissante No allora Ci dovrebbe essere tipo Un grande Pezzo quadrato Sul percorso Devi andare verso sinistra Mi ricordo Ma non posso Arrivare a Ceneride Da sub No eh No 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 Perché è un pezzo diverso Di sub Ok perfetto Mi ha scrivato Un allenatore Sante Ah aspetta Dov'arrivare dove ci sono le rocce Quelle bianche Esatto Quelle bianche Quelle bianche Sono sul percorso 126 Duke Che abbiamo passato Quindi è quello attorno a Ceneride Ah è un altro percorso Ti giuro che me l'avevo perso Te lo giuro Anche io in realtà Solo che adesso ragazzi Cazzo ho attivato il repellente Eh ah io sono Torch 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 Cazzo al certo punto Uno lo sta facendo un video Non è si sente Torch Torch No Mi ha fatto R8 ho fatto Deve sia obbligato Vuole riportarmi indieta Vuole riportarlo La Soul Link Di Pokemon Ore Pokemon Argento Mamma mia la cattiveria Oddio mi vuole purgare Con Magifuoco Tra l'altro minchia Nuke Show Sto molendo di caldo qua Cioè proprio La siccità La siccità ragazzi Sta colpendo anche me Proprio di cattiveria Anch'io K Palicio Vai al tuo momento Vai vai Volo Vai di cattiveria Schiatta Schiatta E non schiatta Ovviamente Perché ragazzi E più lungo Non hai previsto questo Questo percorso Mi aspettavo che avessimo Fatto molto più Eh infatti Molto più in fretta Sinceramente Io ho finito L'effetto del repellente Luke Quindi Prova farla cattura Io sono repellente Falla tu Ok attenzione ragazzi Oddio Gorebis A livello 9 Beh Gorebis E' proprio adatto Anche al tuo canale Insomma A livello Fottuto 9 Bello Vediamo un po' da me Invece Allora Vaffanculo Di tipo erba E' un fottuto Kakuna Beh si evolve subito Preso Ragazzi questo episodio qua Li sto prendendo tutti Anch'io Ma Io quello scorso Ho fatto favilla Già sul serio Ho fatto veramente Faville Attenzione ragazzi E non ci sta Guarda però Però già è buono Come lo chiamo Gorebis però Oddio Merda come Calip Cazzo è maschio Minchia come faccio Un Gorebis maschio Poseidon Vaffanculo Sì dai Sciallo Già Intanto Intanto Potrebbe essere una buona copia Perché Kakuna si vuole subito Praticamente Quindi lo faremo Sì ragazzi Nel prossimo episodio Prima di andare a beccare i leggendari Che a sto punto faremo nel prossimo Ci Ci diciamo Ci facciamo una coppia Cioè No Beh era suonava molto male Ci facciamo una coppia Ok Oh sott'acqua Sott'acqua Ecco Ce l'erba Vai Vai tu Vai tu Vai tu a questa Quante catture stiamo facendo Tipo troppo Raga questo episodio qua si chiamerà tipo Oddio le catture ovunque Sono risalito per sbaglio Explode Buono Buono Explode Buono Explode It's honest Io ho trovato Oh Beh oddio Altaria Altaria Buona Buonissima Buonissima Altaria No No Aspetta Che succede Cos'ho visto Altaria il 21 Ha utilizzato Iperzanna su Kappalicious Ma ha tolto Un quarto di vita Questo qua è da prendere Prendilo Prendilo allora Questo è da prendere Prendilo Se mi ha tolto così Minchia nube Cazzo Non riesco Ok perfetto Parassi seme non ha effetto Cosa vuol dire se parassi seme non ha effetto su Altaria Che è di erba Eh Parassi che si fai tipo erba Tipo Z che sbatti Allora Proviamo una sub Ball così di cattiveria Eh Stavolta mi sa che Continua Luke veramente Mi sta togliendo un fottio Questo qua deve avere un attacco Da far paura E il problema è che tipo Se gli utilizzo una mossa Secondo me va giù Preso Grande Joe Quante Quante cori catture hanno fatto Tipo troppe Grandissimo Cantando con la sua voce cristallina Riesce a mandare In onirica ecstasy Chi lo ascolta Lo chiamo Lo chiamo Altaria Potrei chiamarlo tipo Vassaria Altaria però No No non lo faccio perché questo qua potrebbe essere un pokemon buono Lo chiamo Oddio Soundcloud lo chiamo È un nome fighissimo per Altaria Buono Buono È geniale Soundcloud con Ci sta Altaria Ci sta perfettamente direi Sound Cloud Minchia raga questo qua Penso sia il soprannome migliore che io abbia mai dato a un pokemon Veramente Nella vita più o meno Ok torno giù che in teoria ora dovrei arrivare a Ceneride Cazzo ho fatto la cattura a Ceneride per sbaglio No invece mi sono messo le prende subito appunto per non farla E quindi mo E chi l'hai trovato? E Jigglypuff E Igglypuff neanche Eh allora Allora La devo fare anch'io Non pensavo se fosse trovare pokemon Tanto Tanto leggendario È della È della grotta Esatto Ok l'ho catturato E ovviamente non posso non chiamarlo Pinkball Ho trovato persian Oddio Ho trovato persian Raga indecente Infanamente indecente Pinkball Luke No vabbè Che ricordi I mi ritiro I ricordi Ok perfetto Io sono al centro pokemon Ragazzi vado a vedere un attimo i nostri pokemon Io ho paura di vedere quell'altaria Sì sono troppi di pokemon Ragazzi No mi sono finiti tutti nel box dei morti Stellina Venite qua Venite qua Luke 6 cattur 5 catture Troppe troppe Aspetta per te che le guardo anch'io Già che ci siamo Già E per subito Già di fare leggere Nella prossima parte Sì 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 siamo già ventun minuti Quindi ballona Allora Tante catture Allora Home knight Normale terra Ok Allora vediamo un po' Io Eh charlman dare pikaci Non li considero neanche Che tanto si evolvono Sì appunto Pinkball Vediamo un po' Coleottero Buio Commuta Statistiche di merda Mosse di merda Mi ghiaccia splash Ok so chi non mette L'esco Altaria Oddio Oddio Oh santo dio Luke dobbiamo mettere in squadra Su altaria Con persian Sì Il mio persian Aspetta normale Quindi Madonna Non ha No ok ce l'ha Debolezze ma poche E ha Buono Oh Luke Il mio Il mio altaria È di tipo erba Però ha forza pura Come Abilità che aumenta L'attacco E c'ha 77 di attacco A livello 21 Oh mio Il mio Kakuna Che è Allora Kakuna Psicodrago Psicodrago Con destino obbligato Ritorno Fuocobomba E vampata Cioè non lo so Ok il mio Gorebis è abbastanza Regolare Nulla di eccezionale Ragazzi Io in teoria Potrei fare velocemente In questo finale di cattura Magari lo faccio Alla fine dell'episodio Dovrei avere una Pietratuono Provo a evolvere Pikachu Però non sono sicuro Se ce l'ho Pietra idrica Vediamo no Controllo subito Velocemente E no Penso di essermi confuso Con una delle pietre idriche Fa niente Vabbè Allora ragazzi Nel prossimo Vedete Molte cose Penso un'aggiunta Di una coppia Esatto Probabile E poi altre belle cose Tra l'altro Fantastico Pikachu Che muta Pikachu con l'abilità Assorbivolt Mi piace Vabbè ragazzi Direi che possiamo concludere Questo episodio Noi speriamo che vi sia piaciuto Se così invitiamo come al solito A lasciare un mi piace Un commento Un'iscrizione Ovviamente ad entrambi i channel Mi raccomando Passate dai social Di tutti e due E ragazzi Premete La campanella La campanella Mi raccomando Che importante E dopo questa intro Outro Abbastanza clericale Possiamo dire Noi ci becchiamo In un prossimo Video Bye bye ragazzi Ciao